La macelleria di cotte e di crude, la nuova idea di macelleria. Carni pregiate italiane e dal mondo, di stecche frollate ad arte, fantasia di preparati originali e stuzzicanti per grandi e piccoli. Non vuoi cucinare? Affidati ai nostri cuochi e gusta quello che hai scelto. Vuoi la spesa o il tuo piatto fumante a casa? Chiedici come fare!